Per la cronaca qui a Guidonia, oggi è 3 febbraio, ore 11 e 20, 11 e 45, sta nevicando leggermente con un po' di pioggia e neve. La neve a volte si infittisce, a volte poi diventa più rada, diventa più acqua, fatto sta che fa forte difficoltà ad attecchire perché comunque per terra è bagnato e bisogna dire che le previsioni, quindi tutto sommato, un po' ci sono andate vicino, avevano detto 10-15 cm di neve a Roma, hanno poi forse corretto, in serata ci sarà il massimo della perturbazione nevosa, quindi il massimo della neve dovrebbe cadere nella zona di Roma e nel centro nella serata, poi la perturbazione si sposta al sud, il fatto sta che comunque qualche fiocco si è visto, ho registrato un piccolo breve video che tra poco viene caricato, quindi qui a Guidonia, Roma Est, sta nevicando, anche se in maniera blanda, chicchi grandi, ma comunque mischiati a acqua. Ore 11.47, 3 febbraire.